L'intento preannunciato nei giorni scorsi ha trovato conferma oggi. Questo pomeriggio, ultimato il confronto con i sindaci e limati gli ultimi dettagli, l'avvocato Ezio Trabucchi ha trasmesso per via telematica alla Procura della Repubblica e alla Prefettura di Sondrio un esposto in merito all'attuale situazione ospedaliera provinciale e in particolare a quella dell'ospedale Morelli di Sondalo. Così riferisce la nota sintetica diffusa oggi dal Comune di Sondalo con la quale i sindaci dell'Alta Valle, unitamente al Comitato a difesa della sanità di montagna, hanno convocato per domani presso la sala consigliare del municipio una conferenza stampa per illustrare i contenuti dell'iniziativa giudiziaria che rende ancor più frontale lo scontro apertosi sul territorio in materia di sanità, riorganizzazione della rete ospedaliera e rapporto tra il presidio del capoluogo e il Morelli. Saranno presenti il sindaco di Sondalo Ilaria Peraldini in rappresentanza di tutti i primi cittadini del mandamento di Bormio, Giuliano Pradella e Pietro del Simone per il Comitato a difesa della Sanità di Montagna e lo stesso Trabucchi, estensore dell'esposto.